Il buffet è stato splendido, come sempre. Molto assortito e attento a quelle che sono le esigenze dei bambini. Insiedi quello che vuoi e ti servono loro. Molto alto il livello della cucina, nella zona riscorrante. Il QR da leggere nemmeno col cellulare. Qualità del prodotto eccezionale, piatti moderni, innovativi. Se dovessi dare un voto, MSC ti merita davvero la perfezione.